Allora siamo al Festival della Parola di Parma, siamo in compagnia di un gruppo di ragazzi che non vi faremo vedere perché vogliono conservare l'annunimato, che ci daranno una mano in un'impresa impossibile. Io sono una catmobber inviata da Capo Miccio di Gattini su Salvini, Progetto Kitten, e sto per consegnare, ci proverò, questo attestato di pucciosità a Selvaggia Lucarelli. Esatto, Selvaggia se l'è presa un po' perché anche la sua bacheca è stata oggetto delle attenzioni dei catmobbers di Progetto Kitten, in realtà noi volevamo solo regalarle dei bei sorrisi, tanta dolcezza, non volevamo assolutamente arregarle alcun fastidio, e quindi niente, chiederò a questo gentile ragazzo, il cui nome è? Gianfranco. Gianfranco, di aiutarmi nella consegna di Keep Calm and Pucciosity is the Way di Progetto Kitten. Grazie. Adesso attendete, fammi, dillo anche tu, Keep Calm and Pucciosity is the Way. Keep Calm and Pucciosity is the Way. Ok.